Dopo sei anni di stop con una top player, Kiki Bertens. Kiki Bertens l'abbiamo trattata mentre era numero 7, poi era scesa numero 9 e dopo ha vinto il torneo di Madrid ed è numero 4. Credo che avere la numero 4 come top player del proprio torneo lascia ben sperare a due mesi dall'inizio per un gran bel tabellone. In questo minuto di cambio generazionale del settore femminile del tennis riteniamo che questo torneo debba essere strumentale a questo cambiamento e quindi ben tre wildcard delle qualificazioni e una del tabellone principale sono state affidate alla federazione italiana tennis per poter gettare le basi per le nuove Roberta Vinci, Flavia Pennetta, Tatania Garbin e così via. Ci torna con grande lustro, con un circolo che sta organizzando bene, è riuscito a raccogliere tanti sponsor e che metterà in vetrina oltre a grandi campionesse, spero anche le future campionesse italiane, magari siciliane. Gli eventi sportivi anche hanno una ricaduta sotto l'aspetto turistico, culturale per far riconoscere e mettere in vetrina le bellezze e nel caso di Palermo credo che di bellezze da mettere in vetrina ce ne siano tante. Un anno, come ha detto lei, abbastanza fortunato, diciamo così, nel senso che oltre agli internazionali a Roma e le next gen finals a Milano siamo riusciti con l'aiuto del governo a prendere le ATP final a Torino. Adesso torna a Palermo dopo sei anni, speriamo che Monza riesca a prendere un ATP 250, ho sentito che torna anche il torneo di San Marino dopo tanti anni di assenza, un challenger molto ricco e quindi non siamo mai stati così prolifici nel settore organizzativo. E questa è una bella notizia anche per i nostri giocatori che avranno più opportunità di scalare le classifiche mondiali.